Si è svolta giovedì 7 giugno a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana a Milano, la giornata dei Lefonti Day & Night dedicata al mondo delle assicurazioni. La mattina con il New Insurance Day, le nuove sfide del settore assicurativo, ed è proseguita la sera con i Lefonti Insurance Awards e i Lefonti Legal, Banking & Finance Awards. Eccellenza dell'anno Insurance, il premio viene assegnato a Generali Italia, per essere una delle maggiori realtà mondiali dell'industria assicurativa, vanto italiano e punto di riferimento globale per la vasta offerta e i servizi dedicati, l'innovazione tecnologica, il welfare, la cultura e la responsabilità sociale, sempre al fianco di cittadini e imprese per favorirne la crescita. Eccellenza dell'anno, complimenti. Bravissimi. Eccoci qua. Dottor Cis, Generali Italia si è giudicati le Fonti Awards 2018 come eccellenza dell'anno Insurance to Cour. Come commenta questa vittoria? Beh, allora, noi come azienda mettiamo un grande sforzo e un grande impegno nel cercare di aprire nuove interpretazioni, nuovi orizzonti per quello che riguarda l'assicurazione, cerchiamo di farlo da un lato facendo meglio le cose che già facciamo, dall'altro però anche innovando sia dal punto di vista dell'offerta che dei servizi abbinati a questa offerta. ricevere un riconoscimento a questo lavoro è sicuramente un grande motivo di soddisfazione. Ha citato proprio l'innovazione. Che cosa significa innovazione per Generali Italia? Noi abbiamo messo, soprattutto negli ultimi due anni, direi, grande enfasi sull'innovazione. abbiamo toccato, l'innovazione ovviamente è un termine che racchiude argomenti molto diversi e molto ampi, abbiamo messo enfasi su diverse aree, una di queste è senz'altro l'automazione che noi vediamo come una leva molto importante sia per ottimizzare il nostro modello operativo ma anche per fornire un servizio ancora più eccellente ai nostri clienti, ai nostri agenti. Nell'ultimo anno abbiamo portato in produzione diverse prime casistiche, abbiamo creato la prima chatbot che risponde in modo automatico ai nostri clienti, abbiamo creato un motore di assistenza automatica per i nostri agenti, abbiamo creato motori di intelligenza artificiale che sono in grado di smistare più di un milione di pezzi di posta che riceviamo ogni anno, lo abbiamo fatto creando un'infrastruttura anche tecnologica scalabile, abbiamo capito che possiamo davvero ottenere i benefici che all'inizio speravamo ma non erano certi, questa quindi è anche un'area in cui in futuro vogliamo mettere ancora, vogliamo mettere uno sforzo ancora più sistematico e strutturato. A proposito del futuro, quali altre sfide si vedono all'orizzonte? Beh, l'innovazione è in parte un tema in sé non completamente prevedibile, però certamente da un lato vogliamo rendere più sistematicamente presenti nel nostro modo di fare assicurazione gli elementi innovativi che abbiamo già scoperto, di cui l'automazione è un esempio, dall'altro sappiamo bene che ci sono altri temi da affrontare, certamente un tema è quello dell'arricchimento dell'offerta assicurativa con servizi e con tecnologia, anche lì abbiamo certamente iniziato un percorso e anche le recenti campagne pubblicitarie che Generali ha fatto in questi giorni spiegano come quella sia un'area in cui in futuro vogliamo ulteriormente investire e consolidare quello che abbiamo cominciato a fare. Ancora congratulazioni per questo premio. Grazie mille.